Continuano i controlli dei carabinieri del NAS per la tutela della salute. Per quanto riguarda la provincia di Catania, durante un controllo eseguito su un mezzo adibito al trasporto di alimenti, riconducibile ad un'agenzia commerciale rumena con sede logistica a Catania, si è proceduto al sequestro di carne di origine suina proveniente da zone estere soggette a restrizioni. È stato segnalato alle autorità e referente locale dell'agenzia commerciale il valore delle carni sequestrate corrisponde a 30.000 euro. Sempre in città è stata poi sequestrata un'attività commerciale all'ingrosso di alimenti etnici costituita da un capannone prefabbricato industriale. All'interno delle celle frigorifere sono state rinvenute circa 25 tonnellate di alimenti, prevalentemente carni e prodotti ittici importati illegalmente. Sono state poi sequestrate 4.000 chili di alimenti etnici del valore di 50.000 euro, prevalentemente vegetali, confezionati su pallet senza alcuna indicazione commerciale attestante la rintracciabilità. Il valore della struttura corrisponde a 200.000 euro. Si celebra oggi la giornata mondiale della sicurezza alimentare, iniziativa internazionale, istituita nel 2019 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e il Codex Alimentarius e dal Ministero della Salute, Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nelle tavole degli italiani nell'ultimo anno ha sequestrato oltre 8.000 tonnellate di alimenti regolari di varia natura. e ancora il valore complessivo di oltre 500 milioni di euro. Sono 798 le strutture, depositi, ristoranti, panifici, attività di produzione e vendita di alimenti vari chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie e autorizzative.